Un incrocio che ha già fatto troppe vittime, quello tra la statale 67 e via Ladino, alle porte di Terra del Sole nel Forlivese. L'ultimo in ordine di tempo avvenuto qualche giorno fa ha visto un centauro, Francesco Negro, 58 anni, perdere la vita dopo essere stato travolto da un'auto che uscendo da via Ladino si stava emettendo nella carreggiata in direzione Terra del Sole. La scia di sangue ha fatto intervenire i cittadini che hanno voluto manifestare per smuovere gli animi degli amministratori e ANAS, titolare della competenza di quella strada. I manifestanti hanno collocato a bordo strada striscioni e posizionato subito dietro un escavatore per chiedere, al più presto, un intervento di lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio. Molti automobilisti di passaggio si sono addirittura fermati per firmare la petizione. Sul posto anche la polizia stradale del distaccamento di Rocca San Casciano per permettere lo svolgimento della manifestazione in strada nella massima sicurezza. Intervenuti anche alcuni esponenti del modo politico come il deputato Marco Di Maio che tramite la sua pagina di Facebook ha lanciato un messaggio. Bisogna impegnarsi insieme per trovare una soluzione che accresca il grado di sicurezza delle nostre strade. L'incrocio della statale 67 con via Ladino nel comune di Castrocaro e Terra del Sole è un punto troppo pericoloso della nostra viabilità. Il deputato ha anche annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare al ministro dei Trasporti.